Ancora con il Presidente regionale MSP Frivenza Giulia Lorenzo Giorgi, oggi vestito di tutto punto proprio con la divisa ufficiale della sezione arbitri della Frivenza Giulia. Un omaggio ai nostri arbitri, il più grosso gruppo arbitrale regionale. Non parlavi di mai, dicevi più grosso, ho detto cosa? No, 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 che così mi hanno omaggiato della loro tuta con l'insegno ufficiale dell'MSP regionale. Anche questo è un servizio che viene dato agli organizzatori dei tornei, in questo caso si tratta di calcio, ma abbiamo anche arbitri di basket, di pallavolo e devo dire che ha un buon successo perché diversi tornei anche importanti come la Godizia K ad esempio si sono rivolti pur non essendo un torneo organizzato direttamente da MSP Italia si sono rivolti ai nostri arbitri che sono molto preparati e quindi sono un omaggio a loro essere qui con questa tuta. Bene, già che siamo in tema, quest'anno abbiamo qualche novità dal punto di vista arbitrale o ci sono, cioè, quanti tornei abbiamo come MSP a... Beh, su questo bisognerebbe chiedere al coordinatore Patrick Aroppo che non c'è anzi approfittiamo per invitarlo a una delle prossime puntate sicuramente non verrà, è allergico alle telecamere. Comunque, io posso darti un dato importante, cioè nel mese di luglio che sembra che sia magari un mese poco adatto allo sport i nostri arbitri nel mese di luglio hanno arbitrato 1200 partite in regione Pensate... In un mese, fate un po' il conto, sono 40 partite al giorno sono tante per un gruppo comunque abbastanza piccolo come quello delle MSP che conta 60 arbitri o poco più. Infatti hanno fatto i salti mortali, insomma gli facciamo i complimenti perché è stato un luglio faticosissimo però ne siamo usciti molto bene perché tornei in tutte le regioni la Crese Cup, la Coppa Venezia Giulia, il Memo del Coro a Trieste, la Gorizia Cup insomma, veramente è stato uno sforzo non da poco che però premi il lavoro fatto nel creare questo gruppo. Di qui mi collego e ringrazio anche le altre persone che collaborano con Patrick Caroppo per il discorso arbitrale, quindi Pasquale Esposito, Claudio De Nino, Riccardo Malvestiti e tutti gli altri che sicuramente avrei dimenticato successivamente da fare avanti. A livello nazionale invece gli arbitri per esempio della regione Felizia Giulia hanno possibilità di uscire ed andare ad arbitrare qualche torneo nazionale o qualcosa del genere. Io mi ricordo quando ero più giovane ancora abitravo che c'era la possibilità di uscire alle manifestazioni nazionali per... Beh diciamo che ci sono le finali nazionali dell'MSP Italia poi l'MSP Day è vero che ad esempio quest'anno non siamo riusciti a mandare nessuno proprio perché si sono svolte i primi di luglio e noi eravamo talmente sommersi di gare che anche privarsi di 3-4 arbitri in un weekend era duro. Però abbiamo sempre l'invito da parte degli altri comitati che organizzano le finali nell'attesa di riorganizzarla a Trieste come è successo alcuni anni fa le finali nazionali di calcio a 7 Trieste credo che sia la capitale del calcio a 7 in Italia per la presenza dei campi in erba sintetica per il numero di giocatori che fanno questa attività beh io credo che quest'anno insomma cercheremo di mandarli anche come premio io spero all'MSP Day che si svolge a Rimini l'ultima settimana l'ultimo weekend di giugno di mandare anche qualche arbitro perché sicuramente farebbero bellissima figura. Esatto Mi chiedevo anche a livello anche se alcune cose le so magari non tutte precisamente vorrei che mi raccontassi un po' anche per i nostri telespettatori quello che è un po' l'attività dell'MSP a livello nazionale quindi quali sono gli sport che sono praticati di più quelli un po' di meno il calcio magari a 7 evidentemente più una caratteristica di Trieste di Trieste e della Toscana Quindi siccome so che hai contatti con gli altri presidenti dei giornali raccontami un po' con il nostro presidente Lupatelli che è sempre Beh il presidente Lupatelli che è presidente anche di Access Europa sta girando l'Europa perché grazie all'Unione Europea all'MSP e l'Access stanno dando dei riconoscimenti importantissimi che sono quelli di città e capitali europei dello sport per cui il presidente Lupatelli è impegnatissimo su questo c'è tutta la segreteria nazionale e tutti i presidenti regionali e provinciali gli sport sono i più svariati c'è tantissima attività al chiuso in palestra tantissima danza danza sportiva noi in regione ad esempio abbiamo dei corsi di balle MSP che si svolgono nelle province di Udine e di Pordenone parte dal maestro Piccini che tra l'altro è un maestro di fama mondiale perché ha partecipato ai campionati del mondo che è il nostro coordinatore di Udine ma veramente arti marziali pensate un po' il dato della Sardegna dove c'è l'amico Borsetti una regione che è grande circa numericamente popolata come il Friuli Venezia Giulia dove ci sono quasi 60.000 persone che fanno attività amatoriale con l'MSP Italia per cui si coprono quasi tutti gli sport e si copre anche molta come abbiamo detto prima parte del sociale con i circoli per cui siamo molto ben radicati sul territorio è un ente piuttosto giovane anche se compie 30 anni di fatto quest'anno però pensate che altri enti sono presenti sul territorio nazionale già dagli anni 60 un ente giovane ma che comunque sta scalando la classifica ed è il quarto ente per numero di tesserati in Italia per cui certo messo vicino a dei mostri come il CSI o come la WISP ce ne vuole ancora un po' di strada però insomma stiamo procedendo bene certamente mi ricollego al discorso della questione assicurazioni e il costo delle assicurazioni io volevo chiederti proprio com'è che si fa in un momento di comunque abbastanza crisi come dicono almeno tutti a cambiare questa tendenza e quindi invece che evidentemente aumentare per cercare di recuperare magari le spese che vengono fatte sempre più alte come si fa a ricevere magari degli aumenti da parte dei servizi che sono l'ospedizione del torneo e quindi parlo di campi arbitri e via dicendo come si fa a diminuire la quota che poi andranno a pagare le società per disfruttare il torneo facendo economia sostanzialmente per cui rinunciando a una sede prestigiosa una volta avevamo la sede in Corso Saba quindi in centro città è molto bella con la possibilità di usare un salone insomma molto accessibile e molto particolare anche dal punto di vista storico oggi siamo a Campanella in un piccolo ufficio che però evidentemente ha dei costi diversi ha dei costi diversi per quello che riguarda l'elettricità il riscaldamento per cui la prima regola quella di risparmiare sui costi puri del lente sicuramente poi si ripercuote sulla possibilità di dare sempre un buon servizio perché il servizio è fatto dalle persone ma di abbassare poi le quote qualche sacrificio anche da parte delle squadre io ricordo qualche anno fa avevamo un collaboratore che andava in campo e andava a servizio delle squadre direttamente ogni sera durante la partita oggi invece le squadre magari per le classifiche o per regolarizzare la propria posizione devono venire a Campanella questo però fa in maniera che si riesca a fare sport in un momento dove gli sponsor ahimè non esistono praticamente più anche spendendo di meno per cui fare economia sulla gestione senza abbassare i servizi vuol dire anche poi far pagare di meno questi servizi alle squadre diciamo che anche la tecnologia aiuta molto abbiamo cioè la conferenza 2 è un sito per esempio anche la MSP è un sito molto molto bello importante e molto funzionale esatto anche lì abbiamo fatto degli investimenti ma anche sulla gestione del torneo perché una volta c'erano tutta una serie di persone che dovevano fare classifiche eccetera eccetera abbiamo fatto un investimento le crocette sui 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 giocatori che voleva dire tanta carta tanti contenitori di tanto spazio e tanto impegno invece oggi il computer permette di fare tutto quando una volta inseriti i dati il computer calcola e di solito non sbaglia e questa è una cosa importante è vero che c'è stato un investimento perché dal punto di vista di software il nostro comitato è all'avanguardia rispetto a non solo agli altri comitati dell'MSP ma il programma gestionale per i tornei che abbiamo messo in mano al comitato provinciale di Trieste è richiestissimo da tanti altri enti di promozione sportiva per cui anche lì siamo andati all'avanguardia abbiamo voluto fare un piccolo investimento ma che alla fine fa il bene delle squadre perché permette di uscire in tempi rapidi e senza errori parliamo ancora di di MSP e cambiamo un attimo argomento perché non parliamo più di sport ma parliamo di un servizio che l'MSP può dare in caso c'è una necessità ai propri tesserati quindi parliamo del CAF scusa raccontami un po' questa situazione e come mai l'MSP ha questa facoltà l'MSP come tutte le associazioni ha deciso di aprire un centro di assistenza fiscale con delle problematiche quest'anno ad esempio che negli anni scorsi ha funzionato molto bene alcune problematiche legate a questi ulteriori controlli ad esempio sui modelli ISEE quindi il doppio controllo di agenzia delle entrate e IMS che ha rallentato di molto quello che era il servizio ma che è un servizio che abbiamo voluto dare ai nostri tesserati e per cui in questi anni in maniera assolutamente gratuita abbiamo fornito di certificati ISEE e di altri certificati che tanti CAF fanno tante associazioni fanno e che noi abbiamo voluto dare ai nostri tesserati e anche alle associazioni sportive direttantistiche che sono affiliate con noi e magari non partecipano ai nostri tornei ma usufruiscono in questo caso del servizio abbiamo fatto per questo abbiamo seguito dei corsi in questo momento stiamo attendendo tutte quelle che sono le novità dal punto di vista fiscale che quest'anno non sono poche per fare in maniera di aggiornarci e ampliare l'offerta perché ci sono ancora tanti servizi che servono alle società e che magari non se ne conosce poi la necessità io penso alla privacy e dicogli una battuta sulla privacy tanti sono convinti che basta far firmare l'autorizzazione non è vero servono tutta una serie di certificati che fatti da enti esterni hanno un costo molto grande fatti dal CAF dell'MSP hanno dei costi minimi riferiti evidentemente a chi dell'MSP fa parte quindi alla fine potremmo chiudere questa nostra chiacchierata dicendo che l'MSP ad ogni buon conto oltre a dare la possibilità di giocare a tutti e far fare sport e anche un ente che crea e dà servizio quindi alla fine non solo sport non solo sport tanti servizi anche qui servizi essenziali che magari non gli dà il professionista o che magari costano meno fatti da noi rispetto a un professionista non abbiamo più come succedeva negli anni un commercialista un avvocato a disposizione delle società perché aveva un costo e abbiamo deciso di abbattere quel costo abbiamo però dei servizi complementari che sono molto utili e che non è facile trovare in giro per cui l'MSP io ripeto sia il sito nazionale che è www.mspitalia.it quello regionale www.mspitalia.it www.mspitalia.it e la pagina facebook del comitato regionale che ha solo 30 mi piace perché è stata fatta pochi giorni fa magari metteteci un mi piace così cresciamo perfetto con questa ultima battuta di Lorenzo Giorgi noi ci salutiamo lo ringraziamo di essere stato presente e di portarci la fortuna che ci ha portato l'anno scorso e sicuramente sarà mio ospite qualche altra in qualche altra occasione io vi do appuntamento alla prossima occasione con 4C7 la nuova stagione ciao saluta 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 saluta